Io sono nato il 21 luglio 1938, la famiglia era abbastanza numerosa in quanto avevamo una trattoria molto conosciuta veramente a Pola e trattoria al sole. Noi siamo sempre stati a Pola, più che altro Pola e Rovino, è una famiglia che credo sia a Pola da tre o quattrocento anni. Mio padre e la famiglia di mio padre e di mia madre hanno partecipato, anzi, alla costituzione della società Pietasuglia. Non si poteva più tentare di rimanere, per cui non si poteva più neanche pensare di convivere assieme. Il 18 agosto 1946, io ero a Vergarone. La gente ormai ci aveva fatto l'abitudine perché d'estate addirittura, mi ricordo mia mamma prima, tirava su un po' di ghiaietta su questo badilotto, ci metteva sopra la sua mano e addirittura si apotevano lì con la testa, insomma timore non ce n'era. e alla fine della gara mio zio che mi aveva accompagnato quel giorno fece scattare una fotografia, io e lui assieme che riproducevano il campo di gara e si vedeva fino in Mollo dove arrivavano le imbarcazioni e dove c'erano vicino questo campo di mine che io conoscevo per tutto l'estate. Tutte queste domeniche da sola scivolare tra la pianeta e il mare e poi dovrò scappare e lasciare tutto, dovrò restare qui e avere paura della mia stessa ombra. Su quella spiaggia sono in centinaia, tutti italiani, quante ne resteranno a Pola? BANTI Grazie a tutti.